Ragazzi buongiorno a tutti, questo non è un benvenuto in un nuovo video del Gobbo Toscano ma è semplicemente un post, dovete ricordarvi stasera all'ora 21 la Gobbo TV puntata inedita avremo la presentazione del libro che poi potrete anche visionare e se volete acquistare su Amazon di Alessio Noceti, un libro molto 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 importante per quanto riguarda il calcio in più avremo da fare sicuramente un bellissimo festeggiamento di compleanno stasera e vi dirò chi è stasera perché tutte sorprese, tutte sorprese e in più avremo un altro ospite sensazionale in live, non videoie, non videoie, mi raccomando fino alla fine Forza Juve ragazzi stasera ore 21 tutti in live dal Gobbo Toscano sarà una live indimenticabile, ciao!